Amici miei e benvenuti in questo nuovo video E' tornato l'amico di tutti Valentino Che settimana scorsa ha battuto un record Ebbene si abbiamo un nuovo Guinness World Record Settimana scorsa Valentino Ha detto tutte le città del mondo In meno di due minuti Ma questa settimana si è superato Si è superato facendo cosa? Imitando tutti gli animali in meno di un minuto esatto Quindi andiamo a guardare insieme il video Delle imitazioni dell'animale Del nuovo Guinness World Record Visto il record dell'altra volta Sì Sicuramente l'avete visto dove vi ho detto tutte quante le città Certo Del mondo Sì Un record favolosissimo Favolosissimo In meno di due minuti vi ho detto tutte quante le città Porca troppo Certo E oggi visto che mi è stato chiesto Da alcune di voi mi è stato chiesto Da alcune people Io ho deciso di farlo Ok anche se comunque Io ho fatto delle professioni molto molto importanti Tra cui come ben sapete Imprese di pulizia, pizzaiolo Tutorialista Tutorialista Certo Sono molto importanti Se non si credete Magari Ma quando mai Non ti preoccupare Metti appunto da 60 secondi Mentre fai gli animali Vai vai Infila per sé con il resto di cui Ok Vai Andiamo Via Via Il cavallo La punca Una pecora esaurita Un servetto A B Pisce Che non cambia niente Ah ecco La vibra è più incazzata Giraffa Il famoso verso della giraffa Il collo Il suo verso Vai Gallo Un cavallo Con la crista Ok Ok Finito Questa è il pulcino Il suo bacetto Il caro Il caro che dice i siti Sì sì Vai vai Ok Gatto Gatto arrabbiato Ah gatto arrabbiato Vediamo 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 Coniglio Si sta facendo una doccia Ah questo è il coniglio Geneticamente modificato Basta Ma Ma Farci uno guardino Coniglio Coniglio un po' Ecco in calore Un po' in calore In tiepido Famosissimo Verso il collo Poi vediamo Vediamo un attimo Ecco 8 minuto ancora Non c'è Minuto Menta poco Un minuto Vediamo Tartaruga Che cos'è questa? Ecco Questi D'animale Ah sono finiti Ma Ma Ne fatti sette Così anche Voi fare Tutti quanti Gli animali Ah che bello Io stasera Che scende che lo faccio Ma chi te l'ha fatto Sti complimenti Ma Ha fatto solamente 10 animali Di cui 8 erano sbagliati Cioè Gli animali Sono tantissimi L'arca di Noè Non era l'arca di Noè Era Varchetelli Noè Arrimi Ci trasevano Comunque complimentissimi A Valentino Per questo nuovo Guinness World Record E' riuscito a dicerchi Su un soddisf Che Renzi In un minuto Condividi e fai girare Se il video ti è piaciuto In caso contrario Ti devo mandare per forzare E' con i rifà Ciao